Seduta a mattutina di allenamento al Via del Mare per la squadra del Lecce, impegnata alla ricerca della migliore tattica possibile per la prossima partita sul campo di Prato, prevista per domenica. Fatta eccezione per D'Ambrosio assente, Bogliasino che ha proseguito le cure fisioterapiche, tutti presenti, con Amodio, Bellazzini e Zigoni a lavorare quasi per intero con il gruppo. Al termine dell'allenamento incontro con la stampa per il Terzino Martinez, la cui permanenza a Lecce è alietata dalla nascita un mese e venti giorni fa del piccolo G. Bertino. La prossima è una partita aperta, tutta da giocare per entrambe le squadre, ha detto in conferenza stampa. Il Lecce è da Serie B, ha concluso, ma facciamo un passo per volta, giorno dopo giorno. Io dico che tutte sono impegnative, non solo una, tutte, perché contro il Lecce se la vogliono giocare sempre tutti, anche se hanno speranza, anche se non hanno speranza, perché vogliono fare sempre una bella figura. Penso che sarà una trasferta in più molto insidiosa. Penso che sarà una partita aperta per tutti e due. Tutto è possibile, la realtà è quella. Dopo quando ti lascia fuori la matematica ci pensi alle altre, però adesso puntiamo sempre lo stesso, lo stesso obiettivo. Giustamente dobbiamo vedere che succederà di qua alla fine. Per me, non solo la difesa, tutta la squadra sono dei valori di Serie B, però giustamente siamo in un'altra categoria. Pensiamo a quello che siamo oggi. Perché tanti ci parlano, Martins ha fatto il mondiale, ha fatto. Quello è un passato. Devo vivere l'oggi, quello che siamo oggi. Grazie a tutti.